Con noi mister Ferruccio Pirillo, ben ritrovato mister, che è il mister nello staff di questo neonato progetto che sta portando avanti la SD Rangers di Corigliano, quindi un progetto con i bambini, partire dai più piccoli per poi creare i futuri calciatori del domani. Allora mister, che impressione ha avuto di questa tre giorni che si è disputata, ricordiamo qui sul sintetico del Giannone? Una buona impressione, soprattutto alcune esercitazioni che ho visto fare da Onorato, che è un professionista, mi sono piaciuti tantissimo, quindi con i passaggi a muro, tanti tipi di esercitazioni che mi sono interessati, questo mi è piaciuto, mi è piaciuto moltissimo. Ho notato lei anche particolarmente attivo, specie oggi, quando cercava di spiegare diciamo le basi, però fin da piccoli bisogna magari spiegare quali sono i principi di tecnica di base, tattica di base, quindi l'ho vista tenere a questo aspetto, cosa ci puoi raccontare appunto proprio di questo aspetto? Come io mi daranno la categoria esordiente, allora bisogna cominciare già dagli esordienti, cominciare a fargli capire un po' che cos'è l'organizzazione di gioco, sia tecnica che tattica. Se noi iniziamo dagli esordienti perché giochiamo 9 contro 9, poi saranno gli 11 contro 11, quindi già da questa categoria bisogna cominciare a parlare del calcio vero. Quindi sicuramente tanto divertimento, però un po' di tecnica di base fa bene. Sì, tantissimo. Perfetto. Allora mister, io la saluto, li inviamo come già fatto a settembre per un nuovo stagio organizzato dall'Est di Corigliano. Una buona serata mister. Grazie, grazie, grazie molto.